Ciao, felice che tu mi abbia contattata. Sono molto sorpresa che una ragazza messicana sia una fan dei Mundas. È da poco che vivo in Messico. Sono nata in Brasile e poi ho vissuto in Argentina per alcuni anni. E come hai conosciuto Elena? L'ho conosciuta a uno dei suoi primi concerti. Mi sono avvicinata per congratularmi e ci siamo messi a chiacchierare. Mi piacevano molto le sue canzoni. Anche a me. I testi sono molto belli. Trasmettono un messaggio meraviglioso. Non bisogna mai perdere la speranza. Qualsiasi cosa succeda dobbiamo continuare a sognare. Mi fa così bene parlare con qualcuno che conosceva Elena. Immagino che ti manchi molto. Mi manca tantissimo. A volte è così difficile dover vivere solo con il suo ricordo. Le persone che amiamo non scompaiono mai. Finché le teniamo nel cuore saranno sempre con noi. Grazie Vera. Si è fatto tardi e devo andare a cena. Domani ho una giornata intensa. Non te l'ho detto prima ma c'è una casa discografica che vuole lanciare un album in digitale con le canzoni dei Mundast. E domani io e i miei genitori andremo a una riunione. Che bella notizia. Che bella notizia. Sono molto contenta. Andrà tutto bene. Poi ti racconto. Spero che rimarremo in contatto. Sì, mi piacerebbe molto. Ripositi. Sì. Grazie per la visione